Eccomi di nuovo qua, Zacchini a Stefano e Mortaro Umberto, ancora qua per scoprire un altro mitico mistero, quello del Bigfoot, e stavolta non sbaglio signori, eccolo già che sta, sta miticamente volando sulle acque, si si, ed è caso di Gesù, ma dai, no lui, Gesù camminava, non volava, eh vabbè io volo, ecco, stai zitto, io sono il conduttore, stai zitto, ok, quindi, documentiamo questo altro mitico momento, il Bigfoot ci sarà o no? Ecco, si paracaduta, stesso stile della vecchia cosa, ma stavolta si pianta, me lo sento, no, non si pianta, non si pianta, eccolo, che stile, che stile, si signori, guarda, guardate, che fighità, ma che figo, saluta Zacchi, ehi, ciao, Non ti ha chiesto nessuno di salutare Allora, ci sarà sto Bigfoot, sto enorme, sto enorme non so cosa, si, ci sarà o no? Ci sarà? E dai, ci sarà o no? Non c'è, sembra che non ci sia, ma sta ancora cercando, le ricerche potrebbero durare giorni, mesi, anni E io lunedì devo andare a scuola Io invece devo andare a cagare al più presto Allora, allora Ok La purga fa male Eh, lo so Ok, stavo, cerca Cerca, ma non trova Cosa cercherà sto minchione? Cosa cercherà? Vediamo la mappina? La mappina dice che è a Shady Creek's È un posto fico, eh È un posto di villeggiatura Sì, sì, ok Ecco qua Guardatelo, guardate che agilità Anche se non ho beso Però, guardate che agilità Agilità massima Ha visto qualcosa Sta puntando qualcosa, signore Attenzione, attenzione Lo troverà o non lo troverà? Lo troverà o non lo troverà? Zacchi, lo troverai? Ho trovato le chiavi di casa Bene È un buon inizio È un buon inizio, signori Un buon inizio Guardate come corre Che bello che è Che ho beso Sì, anche ho beso Ma più bello che ho beso Sì Comunque Corre, corre e non trova un cazzo Dai, trova qualcosa che devo fare lo scoop Non scorreggia Non si dicono queste cose Poi ce lo censurano Ok Troverà qualcosa? Troverà macchine rotte? Vetri rotti? GPS rubati? Cosa ci sarà? Albero Felice arrivavamo? Ok Cosa c'è? Cosa c'è? Niente Sembra che non ci sia un tubo Perché su me non guarda bene Comunque Non c'è un tubo Cosa c'è? Una memory card? Sì, sì Non è vero, non è tua È un'obesata questa che dice Tagliamo, tagliamo Allora Ovviamente è quella mia comunque Comunque Attivate un mitico trucco Il quad, signori Il quad È una figata sto quad Sentite che musichetta Tranquilla Perché hai spento la radio? Mi stavo sulle balle Ah, ok Comunque a me piaceva la musichetta È caduto, è caduto Ma guardate che abilità Che faccia da culo Giralo Giralo un attimo Ma perché non lo giri mai? Ecco, guardate che faccia da culo Mentre schiva gli alberi All'incontrario È difficile Schivare l'incontrario Infatti si è piantato Sempre Ecco, neanche dritto Non lì c'entra gli alberi Comunque Continuiamo a documentare sta roba Continuiamo Ce la farà o no? Ce la farà Non ce la farà secondo me Secondo me non esiste Punta con il fucile a cecchino, signori Avanziamo con lo zoom Per vedere cosa sta guardando Sembra una faccia da obeso Ma non c'è nessuno Sarà Gesù Oh, non sarà Gesù Boh Nessuno lo può scoprire Ok, ok Ok Sento che siamo vicini Sento che siamo vicini Sento che siamo vicini Nel frattempo vi racconto Un'esilarante barzelletta No, ti prego Raccontala tu A chi è un'esilarante barzelletta Ah Ah Ah, due quad Sì, sì, due quad Perché lui è il più figo Quindi ne ha due Quando vado io Non ce n'è neanche uno Di solito Ma cosa si vedrà In questa foresta Piena di merda Niente Grazie 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 dell'ascolto Vi voglio solo mostrare Come si pianterà adesso Perché naturalmente Si pianterà È sottinteso Guardate, guardate che abilità Adesso si mianda Quanto scommettiamo? Adesso vado a Liberty City Va a Liberty City Ma dato che in San Andreas Liberty City non esiste Ma non ti è cazzato Eh, non ti è cazzato Ma sono obeso Ok Grazie signori Grazie della vista Buona vista Buona vista studios Grazie a tutti Ammortare Umberto E Zacchini e Stefano Non fare gesti ucini A voi in studio Grazie a tutti